Parla tifoso dell'Azzurra. Torniamo con altre notizie sui possibili candidati alla panchina del club. Questa volta il giornale tira fuori un nome del passato, Rudy Garcia. Esploriamo questa opzione e discutiamo di cosa potrebbe significare per il Napoli. Premi già il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Secondo l'edizione odierna del quotidiano, Rudy Garcia appare come una possibilità per succedere a Giattuso. Il tecnico francese ha recentemente concluso la sua parentesi all'Al Nasser ed è ora disponibile sul mercato. Questa opzione potrebbe sorprendere, nascosta tra le righe di questa indagine in corso, che si ritiene sarà completata entro il 27 giugno. Rudy Garcia è un nome familiare per molti tifosi del Napoli. Ha già avuto un periodo nel club italiano in passato e ha lasciato un'impressione positiva. La sua esperienza e conoscenza del calcio italiano possono essere viste come risorse importanti per la squadra. Tuttavia, è importante ricordare che questa è solo una possibilità tra le tante. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e sicuramente esplorerà diverse opzioni prima di prendere una. Decisione definitiva Continua a seguire il nostro canale per ulteriori notizie e informazioni sul Napoli. E tu, tifoso, cosa ne pensi della possibilità che Rudy Garcia torni nel club? Lascia il tuo commento qui sotto e condividi le tue opinioni. Forza Napoli sempre!